Pietro Cingolani, ieri è uscito il tuo libro Romenni d'Italia. Chi sei e perché questo libro? Io sono un ricercatore dell'Università di Torino, un antropologo e attualmente insegno all'Università del Piemonte Orientale Antropologia delle Migrazioni. Da diversi anni lavoro anche per un centro di ricerca che si chiama Fieri, che è un forum di ricerca sull'immigrazione. Grazie a questi miei interessi sono arrivato ormai nel 2005 in Romania per capire meglio la terra d'origine di tante persone che sono presenti nel nostro paese. Calcoliamo che parliamo quasi di un milione di romeni residenti nel nostro paese. Di cosa parli nel tuo libro? Il mio libro è un percorso attraverso la storia innanzitutto perché non mi limito solo agli ultimi anni ma cerco di capire un po' le origini di questa grande migrazione che ha riguardato l'Italia andando indietro anche negli anni del socialismo per arrivare chiaramente al presente attraverso questo percorso che pone in primo piano la storia di un paese in particolare, Margina, è un paese rurale della Moldavia romena, dal quale sono partito per fare un percorso nella storia ma anche nello spazio per capire le vite di queste persone che appunto lasciano il loro paese per venire poi a vivere nelle nostre città. In particolare poi mi sono concentrato sulla città di Torino perché è innanzitutto la mia città che conosco particolarmente bene, in secondo luogo è appunto la zona in cui il maggior numero degli abitanti di Margina si sono poi trovati a vivere e a lavorare. Facendo questo percorso conoscitivo quali sono i dati che non ti aspettavi di trovare che rappresentano praticamente una sorpresa? Innanzitutto ho scoperto che dal punto di vista culturale e anche di organizzazione sociale vi sono degli aspetti di grande somiglianza tra noi e voi, tra gli italiani e i romeni. In particolare quando faccio riferimento all'organizzazione sociale penso ad esempio all'organizzazione della famiglia, al rapporto ad esempio con la terra e l'agricoltura. Teniamo conto che questa regione della Romania, una regione agricola, pedemontana, vicino alle montagne, che presenta caratteristiche che possono ricordare molto culture delle nostre zone alpine. Quindi il primo paragone che è venuto fuori è appunto tra questa zona e quanto io conoscevo ad esempio delle zone del Trentino, zona dalla quale tra l'altro da parte di madre provengo. Quindi questa è stata la prima sorpresa, proprio a livello anche di, appunto come dicevo, di organizzazione della famiglia, di ritualità, di vita contadina. Il secondo punto, la seconda scoperta che ho fatto è che noi siamo abituati a prendere in osservazione solo le nostre città e capire e interrogarci su quanto i romeni si integrano nei nostri tessuti urbani. Mi sono però anche reso conto che molto in Romania sta cambiando in seguito all'emigrazione. Quindi se da una parte possiamo dire che le nostre città si sono in parte romenizzate, possiamo anche dire che molte parti della Romania si sono italianizzate in seguito a questa migrazione. Quindi quello che mi ha sorpreso maggiormente è trovare in Romania luoghi in cui si parla fluentemente l'italiano, trovarmi a mangiare piatti italiani in zone di campagna della Romania e in generale appunto respirare aria di casa anche in Romania. Ultimamente si parla molto dei rumeni. Quali sono le informazioni che non si trovano nei media e che tu hai avuto occasione di trovare facendo questa ricerca? Perché dovremmo comprare il libro e cosa troviamo di nuovo sui rumeni nel tuo libro? In primo luogo voglio sottolineare come i rumeni siano un caso esemplare che però può essere allargato più in generale alle popolazioni migranti, all'immagine che gli immigrati hanno in questo momento in Italia, percepiti fondamentalmente come forza lavoro e esclusivamente appunto come forza lavoro e come forza produttiva, ma non come persone. Quindi nel momento in cui non vi è più richiesta di questa forza lavoro, chiaramente il migrante è visto come qualcosa di inutile, come un disturbo o una minaccia al nostro ordine morale. Quindi un primo aspetto che secondo me è interessante sono i parallelismi che possono venire dall'analisi del caso romeno e dal caso albanese. Allora noi forse abbiamo la memoria corta noi italiani, ma se si osserva la produzione mediatica e discorsi politici in Italia nei primi anni 90 verso gli albanesi, troveremo degli elementi estremamente sorprendenti per quanto sono simili riguardo ai romeni. Diciamo, gli albanesi in quel momento storico sono diventati la grande minaccia per l'Italia, minaccia che è scomparsa nel momento in cui l'immigrazione albanese è diminuita e queste persone si sono maggiormente integrate nel sistema Italia. Adesso è il turno dei romeni, e quindi una prima cosa che colpirà chi legge il mio libro è osservare come i romeni sono stati descritti dai media e come in realtà poi quello che io racconto sia molto differente dai racconti che si possono sentire. Tante singole storie, profondamente umane, storie anche molto differenti tra di loro, perché non dobbiamo dimenticare che abbiamo persone di varie età che vengono in Italia, che provengono da ceti sociali differenti, con professionalità diverse, e quindi che mantengono anche questa loro diversità nella loro immigrazione in Italia. Quindi la prima cosa che credo di aver apportato alla ricerca e alla conoscenza è questa molteplicità di esperienze. In secondo luogo, un altro filo conduttore nel mio libro, che cerco appunto di trasmettere a chi legge, è di cominciare a pensare agli immigrati romeni non solo come persone da integrare nel nostro sistema italiano, ma prendere anche in considerazione che queste persone possono desiderare anche l'idea di tornare nel loro paese, e quindi i loro progetti migratori non necessariamente devono essere legati a una totale assimilazione in Italia. E da questo punto di vista, diverse storie che ho raccolto sono storie di persone che hanno anche finito un periodo in Italia e che hanno la voglia di ricominciare una propria vita in Romania, chiaramente facendo patrimonio dell'esperienza italiana, ma continuando i loro progetti di vita familiare in Romania. Quindi in una parte del libro si tocca anche l'aspetto di quanti tornano, cioè dei romeni che tornano a casa e che ricominciano una nuova vita nuovamente dai immigrati nel loro paese, se vogliamo. È interessante perché siamo abituati a vedere solo l'aspetto dell'immigrazione qua, dobbiamo pensare che queste persone avranno a loro modo altri problemi nel reinserimento in Romania, perché sono state lontane molti anni dal loro paese. Come puoi riassumere questo lavoro lungo più di quattro anni? Posso riassumerlo secondo appunto questa osservazione su come in tutte le esperienze di immigrazione, che sono esperienze fondamentalmente di umanità, vi possono essere storie di successo, storie di sconfitta e storie che si pongono a metà strada, cioè persone che cercano di barcamenarsi tra le difficoltà della vita. E quindi bisogna tenere in considerazione tutte queste sfaccettature. Quando penso ai romeni che delinquono o vivono per strada, io penso a loro in termini di persone sconfitte, quindi non tanto con un'ottica criminalizzante, ma piuttosto di persone che purtroppo hanno perso dei riferimenti, perché il processo migratorio molto spesso può anche spingere a perdersi. Sicuramente ritengo che la risposta a queste esperienze di perdizione e di sconfitta non è certo una stretta securitaria allarmista a quello che sta succedendo in questo momento in Italia. Infine voglio ricordare come gli italiani a inizio secolo, tanti italiani dal Friuli, Venezia e Giulia, emigravano con le valigie di cartone e andavano in Romania a costruire le strade per l'impero austro-ungarico. Allora che c'era richiesta di mano d'opera. Quindi non dimentichiamo questo, su come siamo solo in una fase storica, in cui l'Italia in questo momento si trova in una posizione di relativo vantaggio, quindi è un paese che attrae. Ma non dimentichiamoci che così come gli italiani hanno lasciato il nostro paese a milioni per altre destinazioni, così potrà ripresentarsi forse un giorno, un tempo in cui magari saranno gli stessi italiani nuovamente a emigrare in Romania. non da padroni ma da sottoposti. Quindi questo è anche un monito un po' a mantenere la memoria storica.